Ci troviamo all'interno del palazzo del governatore di Mondovì, accanto a me c'è Enrico Martino, Enrico Martino è un noto fotografo di viaggi, però qui lo vediamo in una veste nuova, ha realizzato le foto per questo libro, Aiku in bicicletta, per la casa editrice Notes. Da dove nasce questo progetto e come è stato realizzato? Il progetto è nato da un precedente libro sugli Aiku, quindi da un primo libro sugli Aiku per bambini e a questo punto è nata l'idea di abbinare il concetto degli Aiku e il concetto della bici che hanno dei punti in comune di non invasività, di essenzialità, però visto che già l'Aiku è un qualcosa di diverso, è un linguaggio non nostro, abbiamo pensato di utilizzare un altro linguaggio, non le classiche illustrazioni, anche questo non è un libro per bambini, in realtà è un libro per qualsiasi età e quindi usare l'illustrazione fotografica, però la fotografia è usata in modo diverso perché proprio per le caratteristiche dell'Aiku una foto puramente documentaria probabilmente non avrebbe funzionato, quindi l'idea è stata di andare per sottrazione, quindi di ridurre la foto quasi a una grafica, quindi rifacendosi in qualche modo anche al contesto culturale giapponese degli Aiku. Queste foto sono state realizzate in diverse parti del mondo, perché si va dal Messico alla Francia, dalla Cina all'Irlanda? Sì, poi c'è l'Africa saheliana, c'è la Turchia, c'è il Guatemala, ci sono moltissimi paesi, in realtà proprio facendo questo lavoro di ricerca mi sono reso conto che c'era un fil rouge della bicicletta nelle mie foto ed era una bicicletta, noi pensiamo molte volte alla bicicletta come uso per il tempo libero, come un qualcosa di vacanziero quantomeno, mentre invece questo era un uso della bicicletta soprattutto per lavoro, c'è un'altra bici e in questo senso c'è un percorso omogeneo attraverso le fotografie, perché sono tante culture e tanti contesti, però li unisce questo discorso della bici e della bici da lavoro, perché quasi tutte queste foto sono state prese in situazioni di vita reale e di reportage di lavoro, non è nato come un reportage sulla bici, però è stato costruito come una ricerca posteriori in questo caso.